Una serata di festa tra musica e sport all'oratorio di San Colombano in via delle ville dove sono stati inaugurati gli impianti sportivi e il nuovo centro di aggregazione dopo gli interventi di riqualificazione sul territorio della parrocchia grazie al contributo del Comune di Capannori e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Al taglio del nastro presenti il sindaco del Comune di Capannori, Luca Melesini, il parroco di San Colombano, Don Damiano Pacini e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini. Un centro che ha avuto un contributo da parte del Comune in un'ottica appunto di aggregazione a partire dai giovani, a partire dalle nuove generazioni e quindi per questo post-Covid dare degli spazi che siano degli spazi di incontro, di divertimento ma soprattutto di crescita. Nell'area di fronte alla chiesa è stato riqualificato il campo da calcetto esistente e sono stati realizzati un campo da bocce regolamentare e un campo polivalente che contiene un campo da basket e un campo da palavolo. Nell'area verde sono stati poi riservati spazi comuni ed è stato realizzato un parco giochi e sono state messe a dimora essenze vegetali. Realizzati anche camminamenti che collegano l'accesso con i campi da gioco e le aree verdi. Tutti gli spazi inoltre sono stati dotati di un nuovo impianto di illuminazione e riqualificato anche il centro di aggregazione. La nostra comunità parrocchiale, non solo la frazione San Colombano, riesce ad avere uno spazio a disposizione dei giovani che sarà il punto di partenza di un cammino che porterà qui e oltre a progetti teatrali, culturali, ricreativi.